vi vedo scatenate si vanno sullo stesso grappolo caspita vi vedo scatenate se avessero questa produttività le maestranze Corrado il tuo lancio da lontano secondo me non è proprio ortodosso è un lancio schiacciante alza le forbici Liliana vediamo le tue forbici tira su le forbici tira su le forbici oh guarda cosa faccio guardami un sorriso guarda la signora che fa è un'esperienza che fa tanto le volontarie buongiorno buongiorno grande buongiorno Grazie a tutti.